Musica Te spettatori, Ben ritrovati con l'informazione di Telediogene, Rubinetti a secco, situazione sempre più critica, aggravata anche dal gran caldo nella periferia nord di Crotone. Siamo a Margherita, nelle contrade nord, da 10 giorni manca l'acqua potabile nelle case dei cittadini, qui c'è un'altra città, me lo facevano notare loro quando ho detto che è stato difficile trovarle, effettivamente è stato difficile trovarle perché non avevo capito il posto dove arrivare, perché qui c'è un'altra città, non è un semplice quartiere, è una città nuova, ci abitano migliaia e migliaia di cittadini e con il caldo che è arrivato si trovano senza acqua, ma è una storia un po' vecchia, ci ha chiamato Salvatore Cammeriere che è il presidente del comitato Contrada Margherita Unite. Sì, come lei ha ben detto, diciamo ormai Margherita è diventata una realtà, siamo oltre 3.000 persone che qua ci abitiamo e come tutti gli anni diciamo puntualmente quando arrivano le stagioni del caldo dove l'acqua immancabilmente serve più dell'inverno diciamo per il caldo a foso, sia l'arsa che l'asorical ci fa il solito regalino. Chiediamo questo aspetto, cioè mentre il resto della città l'acqua la fornisce l'aso acro, nelle zone periferiche di campagna, chiamiamolo tra virgolette perché abbiamo detto che è una città, sono fornite dall'arsa, dall'exo Prasila perché vengono considerate ancora zone, è la questione della Calabria, queste sono le anomalie di una Calabria che non vuole diventare moderna, questa è la verità e allora voi l'acqua ve la dà l'arsa e sistematicamente l'acqua l'arsa d'estate ve la fa mancare. Infatti, niente da quello che abbiamo potuto recepire, infatti l'arsa come lei è ben detto che fa parte della regione Calabria, quindi oggi il nostro appello va sicuramente alla Presidentessa Antonella Stasi di intervenire immediatamente, almeno mi auspico che lei farebbe questo, anche perché qua siamo in un grave disagio, siamo proprio da una settimana come lei ben diceva, oltre più che manca l'acqua e niente, diciamo noi qua... Ma perché manca l'acqua? Niente, perché loro dicono che c'è un contenzioso tra Sorica, Le Arse e quindi invece di mettere la pompa grande mettono la pompa piccola e questa pompa piccola non permette di fornire l'acqua bene... Dicono che l'arsa non ha pagato come era successo per la sua acro, a Crotone era successa la stessa cosa, poi è intervenuto il prefetto su sollecitazione del sindaco e il prefetto ha risolto il problema, almeno nel periodo estivo, per voi più o meno la stessa cosa, l'arsa non ha pagato quello che dovrebbe alla Sorica? Però il prefetto per quanto ci è stato detto, ha detto che non è sua competenza, noi non sappiamo allora la competenza di chi è... No, c'è, adesso andrò al comune a verificarlo, c'è un intervento del prefetto, vediamo cosa ha scritto il prefetto al sindaco di Crotone, il sindaco ha chiesto di nuovo l'intervento del prefetto. Allora, signora... Io come cittadino a me non interessa chi... Di chi è la responsabilità... Assolutamente no, l'acqua è un bene prezioso, noi abbiamo diritto ad avere l'acqua, punto. Cioè, lei, nelle case ci sono i bambini... Ci sono i bambini, non sappiamo come fare... Ci sono case da gestire... Allora, io abito qui da pochi anni e sto chiedendo se con l'acqua del pozzo si può lavare un bambino, non lo so... Ci sarà una carica batteriologica sicuramente... Lo dovremmo chiedere all'azienda sanitaria provinciale che ci dice no, ci dice no, un bambino non va salvaguardato, allora come si fa? Qualcuno dice... Qualcuno dice, l'acqua la tolgono dal... non la potabilizzano però la danno per l'irrigazione dei campi, questo è più o meno... La cosa strana che io mi sto chiedendo in questi anni, sono almeno 3-4 anni, che puntualmente i problemi nascono in questo periodo. Quando arriva il caldo? Sarà una coincidenza strana, una coincidenza un po' strana? Certo, prima i cittadini e poi i campi hanno pure diritto, voglio dire, c'è l'economia della città, però prima di tutto i cittadini. Però i bambini hanno più diritto di tutti. I cittadini, anche gli anziani, le persone, chi gestisce una casa come le donne sa bene che significa... Sì, è una cosa assurda, non mi era mai capitata, è un problema veramente enorme, ti accorgi di che cos'è veramente quando ti viene a mancare qualcosa di... Siccome noi ci riempiamo la bocca che siamo in Europa, abbiamo l'euro, allora molte volte io credo che siamo nella Calabria. E poi una cosa volevo puntualizzarla, io stamattina ho provato a chiamare in prefettura, ho provato a chiamare al comune e solamente l'assessore Marsella mi ha dato retta e ha risolto, cioè almeno, quantomeno, mi ha dato qualche risposta e magari non c'entra neanche niente col problema. Io come cittadino veramente di Crotone mi sto un po' vergognando, non ti danno risposte, anzi preferiscono proprio non risponderti. L'Arsa stamattina ho chiamato pure e come risposta mi ha detto che in questi giorni ci sarà una riunione e cercheranno di risolvere il problema. In questi giorni, cioè noi siamo già in carenza di acqua dalla settimana. E voi pensate, cari telespettatori, che in un'altra parte dell'universo, se non nelle zone più remote dell'Africa, ci siano problemi di questo genere? Come a Crotone, nella civilissima Crotone. E allora il problema è davvero che noi siamo in una regione che è gestita come se fosse un territorio più remoto dell'Africa. Questa è la verità vera. Cioè allora non si può lasciare, quando arrivano queste temperature alle nostre latitudini, non si può lasciare la gente senza acqua. Di chiunque siano le responsabilità, si intervenga, si cacciano a pedate, quelle che gestiscono a pedate, che si pagano, che si pagano con i soldi dei cittadini. I cittadini pagano e loro si pagano. Si cacciassero a pedate chi sono i responsabili di questo terribile disservizio. Cosa volevi dire ancora? Sì, volevo dire che se ci sono i contenziosi, i contenziosi si risolvono in tribunale. Non certamente sulle spalle delle povere persone, perché qua siamo tutti i cittadini che paghiamo le bollette dell'Arsa, le paghiamo tutti puntualmente e tutti in modo salato. E' puntuale. E' puntuale. Quindi alla fine poi volevo ringraziare anche l'amministrazione comunale per l'interesse che ha avuto nei confronti della contrata e del comitato stesso. E restiamo in argomento sul problema che abbiamo interpellato l'amministrazione comunale di Crotone. Stiamo venendo da Margherita, dove i cittadini sono in rivolta. Sono in rivolta perché da sette giorni manca l'acqua, in alcune case addirittura da dieci, in alcune sette, altre da sei giorni. La situazione in ogni caso è drammatica, perché il caldo è arrivato, l'acqua non c'è, la gente non sa come fare. E' ovvio che chiamano in causa anche il comune di Crotone, che non ha responsabilità dirette, perché quella parte, come abbiamo detto con i cittadini, è di competenza dell'Arsa. Però il sindaco di Crotone è il sindaco anche di quella parte della città e quindi il problema deve affrontare. Il sindaco in questo momento non c'è. Siamo riusciti a trovare a Sergio Contarino, nel comune ce ne sono altri. E abbiamo chiesto a lui se sa qualcosa sul problema dell'acqua. Sì, è una problematica che dura da diverso tempo. I cittadini stanno pagando una diatribua finanziaria tra l'Arsa e la Sorical. È la stessa situazione che è accaduta a Crotone una settimana fa, tra Soacro e Sorical. Qui c'è un contenzioso di circa 3 milioni, ma in questo momento i cittadini non possono pagare un contenzioso tra partecipate e, diciamo, mancando un servizio da sette giorni in un momento così topico che è caldo. Il sindaco, nel momento in cui è stato portato a conoscenza di questo problema, si è allertato immediatamente e qua io devo ringraziare il prefetto, perché il prefetto ha sollecitato immediatamente i due soggetti contendenti a riunirsi e cercare l'Arsa e la Sorica. Ed è riuscito, anche ieri sera, quando c'era la nazionale, su eccellenza, il prefetto è riuscito a fissare questo incontro giovedì, ma questo non basta. Ci sarà un incontro giovedì sulla vicenda a Catanzaro, ma arrivato a questo punto non basta. Ecco, entra in campo il sindaco, sta predisponendo un'ordinanza ai sensi dell'articolo 50. quindi per problematiche igienico-sanitarie e problematiche di ordine pubblico. Il sindaco sta predisponendo un'ordinanza dove stiamo cercando di dare una risposta a migliaia di cittadini che stanno subendo... L'ordinanza si impone all'Arsa e alla Sorica di dare l'acqua. Di dare il servizio ai cittadini, perché in questo momento i cittadini non possono pagare una diatriba finanziaria tra due enti e il cittadino non può in questo momento essere succube di questa diatriba. Quindi ha fatto bene il sindaco, ha fatto bene il suo eccellenza e il prefetto, perché il cittadino in questo momento deve avere il servizio. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla criticità della mancanza d'acqua nelle contrade nord di Crotone. Registriamo l'intervento del consigliere comunale Enrico Pedaci. Tiene banco la questione della mancanza dell'acqua nelle contrade nord. Chi è sensibile è chiaro che interviene e in questo caso ha chiesto di intervenire il consigliere Enrico Pedaci. Pedaci, una zona con migliaia e migliaia di abitanti senza acqua da diversi giorni. Guarda, io sono stato contattato già venerdì sera dagli abitanti della contrada Margherita e di Carpentieri e Bucchi, dove mi lamentavano il problema della penuria d'acqua. Ho chiesto chiarimenti, non ultimi nella giornata di Bantieri, dove ho fatto una lettera sia al sindaco e al suo eccellenza il prefetto di chiedere l'intervento per ripristinare lo stato dei luoghi, ma in me ancora oggi persiste il problema. Stamattina ho fatto una telefonata ai tecnici di Arsa e Sorical, dove mi è stato comunicato che praticamente funziona una pompa sola, la pompa quella piccola che manda 30 litri di acqua al secondo, di cui i 12 dovrebbero servire solo per il carcere, visto che si trova in quella zona che approvvigiona... Quindi la maggior parte dell'acqua l'assorbe il carcere? Il carcere, quindi sono quasi 12 litri di acqua al secondo che prende. Quindi per gli MBC i serbatoi di Marturana non servirebbero, questi 30 litri non ce la fanno servire poi le zone di Margherita, Carpentieri, Bucchi e Contrata di Arnello. Il sindaco, d'accordo col prefetto, hanno trovato l'escamotage perché c'è un problema di ordine pubblico e di sicurezza della salute dei cittadini. In questo caso il sindaco solo in questo caso può intervenire e qui stanno scrivendo adesso l'ordinanza, l'ordinanza per imporre alla Sorical la fornitore dell'acqua, perché è il solito problema, la Sorical dice di avanzare dei soldi dall'Arsa, l'Arsa è sempre secondo quello che dice la Sorical, l'Arsa non paga e quindi diminuisce la portata dell'acqua. Allora io stamattina mi sono sentito col sindaco intorno alle 8.90 e le dico la verità mi accennava già di questa risoluzione del problema. Poi ho contattato pure l'assessore alla regione dove mi diceva che c'era quest'altra trattativa tra Arsa e Sorical. Mi consente di dire che se c'è un contenzioso tra Sorical e Arsa, Sorical sbaglia due volte. Io non sono né contro i dipendenti di Sorical che giusto se avanzano degli stipendi che vengono retribuiti perché svolgono il lavoro, però per arrivare a 6 milioni di euro, come dicono loro, e fare penalizzare buona parte della città, ma i vertici prima dove erano, cosa hanno controllato, cosa hanno gestito. Allora mi chiedo, io stamattina glielo dico dalla sua emittente, stamattina mi sono dedicato in questura per informare il capo di gabinetto della questura proprio per evitare problemi di ordine pubblico, per lanciare l'allarme di dire, di fare aprire subito immediatamente queste pompe dell'acqua per ripristinare il servizio idrico ai cittadini che è basilare ed essenziale. Sono cominciati questa mattina i lavori di riqualificazione di Via delle Conchiglie, lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Crotone Emilio Candiglota. Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione di importanti opere di urbanizzazione per le quali l'amministrazione Vallone ha previsto un finanziamento di 900 mila Euro. I lavori rientrano nell'ambito del progetto PISU, azioni per la riqualificazione ambientale e sociale di quartieri periferici della città. Politica locale, i consiglieri comunali di Crotone del PD, Domenico Mellace e Pino Candiglota, in vista della prossima seduta del Consiglio Comunale, avanzano una loro proposta. Sentiamo di che si tratta. Due consiglieri comunali del PD, Domenico Mellace e Giuseppe Candiglota, hanno presentato una mozione al Sindaco di Crotone, quindi chiedono di poterla discutere all'interno del Consiglio Comunale perché per conoscenza viene presentata anche al Segretario Generale. In questa mozione si fa una premessa, fanno una premessa che poi il contenuto degli argomenti che vogliono trattare, precisamente, qui dice la città di Crotone unita all'intero territorio provinciale continua a vivere una crisi economica drammatica, quindi la prima questione che pongono è quella della situazione economica che è drammatica, a del poco drammatica. Il numero dei disoccupati ha raggiunto cifre spaventose ed in particolare i giovani in cerca di una prima occupazione hanno raggiunto cifre preoccupanti. La crisi che tenaglia la nazione a Crotone viene percepita in modo più netto, atteso che ancora non è decollato un serio progetto di sviluppo. Una classe dirigente matura deve farsi carico della disperata domanda di lavoro. La città di Crotone e alcuni paesi del circondario sono destinatari di cospicue risorse aggiuntive derivanti dall'estrazione del gas di metano e denominate royalt. Qui sono destinatarie, è un termine improprio, dovrebbero essere destinatarie perché la legge le assegna ma la regione se le mantiene ancora per sé. La città di Crotone, in aggiunta alle royalt, può disporre delle provvidenze denominate bonus carburante di ulteriori risorse derivanti dalle cosiddette transazioni ENI. Tutto ciò premesso, quindi l'argomento di cui si intende trattare è quello dello sviluppo e del lavoro. Questa è la sintesi. Sì, ma io proprio mi sembra dalle sue telecamere, i suoi telespettatori, qualche tempo fa già abbiamo avuto modo di parlare di queste cose perché questa era un'idea su cui sto coltivando, cioè mi viene in modo assillante in mente da più tempo e l'avevo presentata anche al partito. In pratica si parte da un concetto semplice se vogliamo, cioè prima di andare in qualsiasi posto a Roma come a Reggio Calabria a chiedere aiuto, perché questa è una città che ha bisogno di aiuto, bisogna che prima di tutto facciamo bene i compiti a casa. Questa è la valutazione iniziale che mi... Prima vediamo quello che possiamo fare noi con le nostre risorse, questo è il senso dei compiti a casa che non sono compiti per uno che deve essere bocciato, insomma. Parliamo tra politica, ma visto che alcune cose ce le abbiamo, alcune risorse, utilizziamo nel migliore dei modi. Il senso è quello lì, cioè è vero, lo diciamo anche nella mozione, noi siamo del sud senza infrastrutture, abbiamo una situazione negativissima in tutto l'aspetto socio-economico, ma è vero pure che rispetto ad altri territori, della Calabria in particolare, ma anche di altri territori del Mezzogiorno, perché non tutti hanno l'estazione del metano, solo la Basilicata c'è per certi aspetti c'è l'estazione del petrolio e la utilizza in un certo modo, tra l'altro la Basilicata. E come sono politici intelligenti? No, diciamo che non è che mancano... In Basilicata in generale... Non mancano neanche qua, bisogna sollevarci un attimino. È vero quello che dice, non mancano pure qui, ma qui quello che ci frega è la cultura della gestione della cosa pubblica. Va bene, questo lo diciamo... Che diventa privata, eh, in senso questo senso. Va bene, io, come dire, appunto, rivendico questo fatto, nel senso che è vero che Grotone è il sud del sud, è vero che tutti gli indicatori economici, quello che diciamo noi, però è vero pure che abbiamo questi soldi che comunque ci arrivano da un'attività che abbiamo sul territorio. Allora, l'idea è che poi non è un'idea nuova, è un'idea vecchia. Utilizziamo questi soldi perché la sviluppo. Sviluppo è lavoro. Sviluppo, sì, sviluppo è uguale lavoro, sviluppo è uguale lavoro. Qual è l'idea? In pratica lo voglio spiegare a lei e ai suoi telespettatori. Una cosa che è stata già tentata in passato, tra l'altro, è che è fallita per mancanza di risorse, o meglio, anche per mancanza di risorse, ma non solo, spiegherò perché. Se ricorda bene le famose 488, gli aiuto alle start-up delle imprese, hanno visto riempirsi il nostro territorio, ma anche altro territorio, di capannoni vuoti. Contratto d'aria, cotone sviluppo. Ma perché avevano una legislazione negativa, perché si davano sovvenzioni all'attività iniziale, invece l'idea è quella di dare sovvenzioni all'attività in itinere. Come? Quindi lì si finanziava il progetto e il progetto poi non si realizzava, i soldi se li sono presi. La sua proposta, invece, facciamo partire i progetti e diamo i soldi ai progetti. Facciamo partire i progetti. Diamo i soldi quando si realizzano le cose. Non solo, diciamo che più produci tua azienda, più produci in questo territorio, e più io ti aiuto, come? Attraverso uno sgravi con la bolletta energetica. L'ha fatta anche il governo Renzi recentemente. Noi ci stiamo lavorando, siamo altri amici, da qualche mese, insomma. Ed è un'idea che può mettere in moto. Se lei, per un attimino, ha pazienza, risorse ingentissime. Perché noi abbiamo fatto un calcolo approssimativo, anche empirico se vuole. La bolletta energetica è, diciamo, la seconda voce di spesa di un'azienda, specie d'energivora. Prima la costa del lavoro e poi quella dell'energia. Se lei ipotizza che queste risorse possono valere intorno ai 10 milioni di euro, e ipotizzando un costo empiricamente, che vale dal 10 al 15% come costo dell'energia, rispetto al costo della produzione, noi arriviamo attraverso dei calcoli matematici, con questi 10 milioni di euro, impegnando 10 milioni di euro, solo 10 milioni di euro, ma poi si possono impegnare anche, possono essere in moto anche altre risorse, arriviamo a qualcosa come 1.200 nuovi occupati. In pratica, alle aziende che vogliono delocalizzare, alle aziende italiane, ma anche estere, che vogliono delocalizzare la loro produzione, noi dobbiamo dire due cose. Il comune ci mette 10 milioni di euro, il sindacato di confindustria ci mette una riduzione del costo del lavoro, la flessibilità, il cosiddetto contratto di flessibilità, di ingresso. Eni, in questo lo chiamo al tavolo perché ci deve dare anche qualche cosa. Eni, che diventerebbe un partner importante di questi ragionamenti. E la burocrazia del comune? La burocrazia del comune e la burocrazia zero. Le forze dell'ordine con un abbattimento, cioè tutti quei soggetti che hanno titolo perché le condizioni possono migliorare, devono stare allo stesso tavolo. Il comune ci mette i soldi e non sono pochi soldi, però a questo punto potremmo sperare di lasciare qualcosa a quel territorio, se no è stato fatto un calcolo anche quando finiranno il metano. Tra dieci anni forse il metano non ci sarà più, perché di questo orizzonte temporale si parla. Tra dieci anni saremo tutti quanti a recriminare come abbiamo utilizzato i soldi. Più poveri di prima, ma come non siamo stati in grado di avere una ricaduta. Allora, che cosa chiediamo in buona sostanza con questa mozione? Che tra l'altro, lo voglio dire, è patrimonio dell'intero gruppo consigliere del PD, solo per una questione, come dire... Di opportunità, di fare presto. Di fare presto, è stata firmata da questi due consiglieri, ma su questa linea c'è tutto il gruppo consigliere del PD. Noi chiediamo che nel prossimo consiglio comunale si discuta di questa mozione e si impegni il consiglio, il consiglio impegna l'amministrazione attiva a utilizzare tutti i modi per arrivare a un nuovo sviluppo e creare una nuova occupazione. Una battuta. Passiamo dal sacro al profano. C'è tutta questa vicenda sulle dimissioni del consigliere Ferruccio Colosimo. Che cosa ne pensi, Mellagio? Adesso abbiamo parlato di cose serie. Chiediamola così. Ancora politica locale, restiamo al comune di Crutone. Teresa Costese, presidente della Commissione Regolamento, ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Cerchiamo di capire perché. La consigliera comunale Teresa Cortese si è dimessa da presidente della Commissione Regolamento, che è una commissione comunale importantissima. Si è dimessa, lei scrive per motivi personali, ma c'è stato un problema nella nomina del vicepresidente. Aveva chiesto al presidente del consiglio di mettere all'ordine del giorno, ad Arturo Cugliano Pantesano, la nomina del vicepresidente e nell'ultimo consiglio comunale che si è tenuto a maggio c'era quest'ordine del giorno ma era quasi agli ultimi posti per cui non si è più proceduto. A conclusione di quel consiglio di maggio si era deciso di aggiornare nei giorni successivi il dibattito in consiglio comunale per completare l'ordine del giorno, poi quel dibattito non si è concluso, non è stato più ripreso perché il consiglio non è stato più convocato. Allora Teresa Cortese, stanca di gestire questa commissione da sola e senza un vice, ha deciso di rassegnare le dimissioni, giustificandolo perché di una giustificazione si tratta con questioni personali. La commissione sta continuando a riunirsi in autoconvocazione, ci sono le immagini di un incontro che si è tenuto oggi, di questa commissione, siamo presenti anche noi con le nostre telecamere, potete vederle, quindi quella riunione è in autoconvocazione. Restiamo al consiglio comunale perché alcuni consiglieri comunali, prima firmataria Teresa Lucente, Teresa Cortese, poi Fabio Lucente, Sergio Irritale e l'altra firma non si capisce bene sono quattro, hanno scritto al presidente del consiglio comunale Arturo Grugliano Pantisano per chiedere una lettera avente per oggetto le dimissioni di Colosimo Ferruccio. I sottoscritti consiglieri comunali con la presente comunicazione inoltre una formale richiesta di convocazione di consiglio comunale in relazione alle dimissioni del consigliere comunale Colosimo Ferruccio in all'occasione distinti saluti. Quindi chiedono, così come aveva anticipato Sergio Irritale ai nostri microfoni, chiedono che il consiglio comunale si occupi di quella vicenda. Ieri mattina all'alba a Rocca di Neto i carabinieri di Crotone hanno proceduto all'arresto di Giuseppe Arcuri, 39enne elettricista originario del posto e responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, nonché alla denuncia in stato di libertà di CMA, 51enne bracciante agricolo, anche lui originario di Rocca di Neto, è già noto alle forze di polizia responsabile del reato di detenzioni illegali di munizioni, in particolare nel corso di una perquisizione locale eseguita presso un magazzino di proprietà di Arcuri. I militari hanno accertato che il 39enne al fine di sottrarre energia elettrica ai danni della società distributrice aveva realizzato un allaccio abusivo direttamente collegato alla rete Enel. In un'altra analoga attività di perquisizione locale, presso l'abitazione del 51enne CMA, i militari hanno rimanuto 7 cartucce calibro 12 detenute illegalmente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre segnalati alla Prefettura, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di stupefacente, un 39enne, un 53enne e un 38enne, tutti originari di Rocca di Neto. E torniamo a parlare del rischio di dissesto economico per la Regione Calabria dopo l'allarme emerso nella relazione della ragioneria dello Stato. Risco dissesto per la Regione. Lo scrive il Corriere della Calabria nell'edizione online di oggi. L'allarme, si legge in questo articolo, nella relazione della ragioneria dello Stato cresce la spesa per il personale, sostenibilità nel breve periodo. Il Presidente Stasi prova a minimizzare. Questo è il titolo del Corriere della Calabria. Nel test invece c'è scritto bisogna fare presto con i tagli alla spesa e già accorpamenti di società partecipate alla riorganizzazione della macchina regionale per porre rimedio alle eventuali irregolarità di carattere giuridico e contabile e soprattutto per raggiungere la sostenibilità del bilancio regionale soprattutto nel breve periodo. La relazione stilata dagli ispettori della ragioneria dello Stato, quindi dalla Corte dei Conti, al termine della loro ispezione alla Regione Calabria parla di un rischio dissesto a breve termine. Il dissesto sarebbe una tragedia per la Calabria e per i calabresi e lo diciamo noi, aggiungiamo noi, che si può quindi allontanare solo con un repentino cambio di passo e misure eccezionali a partire dall'eliminazione, dal bilancio regionale di tutti quegli interventi sporadici e settoriali che nel corso del tempo sono stati finanziati in modo alluvionale. Questo lo scrivono gli ispettori della Corte dei Conti. Dall'analisi finanziaria, si legge ancora nella relazione, appare evidente come la Regione non sia più in grado di finanziare interamente con risorse proprie il disavanzo residuo del settore sanitario. Quindi siamo davvero alla resa dei conti e se si tiene conto dei debiti fuori bilancio e delle entrate scritte nei conti ma mai riscossi il risultato di amministrazione appare ampiamente negativo. Su questa vicenda poi nel giornale si legge che i consiglieri, sono diminuite le spese per i consiglieri. Per 2013 i consiglieri della Regione Calabria hanno speso 17 milioni di euro, 5 milioni in meno, 5 milioni e 200 mila euro in meno rispetto al 2012. Quando i consiglieri avevano speso 22,2 milioni di euro. Quindi c'è stato il taglio ma non è sufficiente. La situazione è drammatica perché nei conti della Regione Calabria, per fare quadrare i bilanci. Ci sono cose che non appartengono alla Regione, per esempio le royalty. Proprio oggi i sindaci della provincia di Crotone sono recati a Catanzaro. Non vi diamo notizie in questa edizione perché la riunione poi non si è tenuta all'ora prevista e è andata oltre all'ora prevista perché c'era una protesta, la solita protesta, tutti i giorni c'è gente che protesta alla Regione e sono soprattutto i precari, i precari quelli che non hanno soldi per mangiare. Erano lì e quindi è sdrittato l'orario. Ve ne daremo notizia magari nell'edizione di domani. Allora c'è questo problema che nei bilanci hanno messo anche questi soldi e se dovessero venire in mano questi soldi la questione diventa drammatica. La Stasi, il Presidente Reggente prova a sdrammatizzare. Di fronte a un quadro che non lascia per nulla sereni il Presidente facendo funzionare la Regione Calabria, Antone la Stasi dimostra tranquilla. Faremo una contradduzione per ribadire la legittimità degli atti e adotteremo tempestivamente i provvedimenti idoni ad eliminare le criticità rilevate. Il fatto è che nella relazione della Regione e dello Stato chiusa nel mese di febbraio è stata assunta dalla Regione solo in questi giorni e tra esami ed osservazione formulate e contradduzione all'ambito di apposita relazione, tanto per citare la nota di Palazzo Le Manni, il tempo passa. Questo dice il Corriere della Calabria. Il rischio per i prossimi amministratori di ritrovarsi a gestire un default non è più così remoto. Il problema più drammatico non sarebbe per i prossimi amministratori, solo per i cittadini calabresi, per quei precari che continuano a non pagarsi, nonostante le chiacchiere che fanno coloro i quali stanno amministrando questa Regione. Nel cardo pomeriggio di ieri, mentre la maggior parte delle persone seguiva la nazionale di calcio, la Capitaneria di Porto di Crotone veniva impegnata in due difficili soccorsi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro andati fortunatamente bene. Intorno alle 16 una prima segnalazione di soccorso riguardante due pattini con tre bagnini a bordo in difficoltà di rientro a causa di forti raffiche di vento presenti in zona nello specchio acqua e antistante l'idola ronde a Crotone. I tradetti al salvataggio pochi istanti prima si erano prodigati per tentare di prestare assistenza ad una piccola imbarcazione a vela di tipo laser con una persona a bordo, anch'esse in evidente difficoltà nella fase di rientro dalla navigazione. Ha risolto questo problema, nuova segnalazione per la guardia costiera, segnalazione di soccorso relativa a un'imbarcazione a vela capovolta dal vento nelle acque antistanti il villaggio Valtur del comune di Isola Capolizzuto. Qui i militari hanno trovato una situazione decisamente più critica, tra le onde sversate dal vento c'era una unità a vela capovolta con sei persone aggrappate alla struttura del mezzo nautico. Di queste sei persone due erano bambini di 7 e 9 anni. Fortunatamente, come già detto, tutte le operazioni sono andate a buon fine, ma la guardia costiera accoglie l'occasione di sottolineare la necessità di consultare prima di intraprendere qualsivoglia navigazione, i bollettini meteo o marini rilasciati dalle competenti autorità. Oggi è il 25 giugno, decade ufficialmente il Consiglio Provinciale di Crotone e siamo andati a visitare le sedi dei capigruppo. 25 giugno, la provincia di Crotone, il Consiglio Provinciale di Crotone è così battente. Questo che vedete è l'ex gruppo, la sede dei gruppi del Consiglio Provinciale. Qui non ci sono più, stiamo entrando, ci sono solo i dipendenti, non c'è nessun altro, c'è qualche dipendente. Qui fino a ieri c'erano i consiglieri provinciali che venivano a fare il loro lavoro, eseguivano i loro lavori. Oggi c'è il deserto, tutte le stanze qui venivano, si collegavano ai computer con i giornali, dove c'erano i giornali online, perché hanno l'abbonamento online. Questa invece è un'altra stanza dove i consiglieri si riunivano e qui la sala delle riunioni. Praticamente il deserto più totale. Da questa mattina il Consiglio Provinciale di Crotone, come quello di tutta Italia, non c'è più, non c'è più nemmeno la stanza del Presidente, è vuota, eccola qui. Sì, non riusciamo. Allora, si rammenta ai signori consiglieri provinciali che il comma 4 dell'articolo 27 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale consenta a tutti i consiglieri non appartenenti alle commissioni consigliari di partecipare alle sedute delle commissioni senza prendere parte alla discussione, alla votazione senza diritto al gettone di presenza. Per quanto so, per i signori consiglieri che partecipano alle sedute delle commissioni di cui non risultano essere componenti effettivi, ma questa era una cosa che non vale più. Quindi si potevano fare... Diciamo che tutte le stanze sono vuote, consentite unicamente ai consiglieri provinciali, ma ormai qui l'unico ufficio aperto è questo, dove c'è un impiegato, non ve lo facciamo vedere perché ci hanno diritto alla fine, ci sono degli impiegati qui, l'unico ufficio aperto. Per il resto, ecco, siamo andati oltre il Consiglio Provinciale, non il Consiglio Provinciale, ha finito la sua storia. La Camera di Commercio di Crotone rende noto che i prossimi 26-27 giugno presso il Best Western Hotel San Giorgio di Crotone si terrà l'evento Incoming Cina. Cerimonia di firma del protocollo d'intesa stipulato tra Rotary Club Crotone e Casa Circondariale di Crotone per la promozione di attività ricreative e trattamentali a favore dei detenuti. L'evento, che prevede anche la consegna di un pianoforte e di materiale didattico gentilmente donato dai socioi del Rotary Club di Crotone ai detenuti, avrà luogo domani, giovedì 26 giugno alle 12, presso la Casa Circondariale. È presso il Museo d'Arte Contemporanea della provincia di Crotone, si terrà dal prossimo 26 giugno fino al 1 luglio la mostra di pittura dal titolo Incontro tra i due paesi del Mediterraneo, Algeria e Italia, a cura della miniaturista Badia Maidat, l'appuntamento per l'inaugurazione alle 11 presso il MAC di Crotone. E domani su Crotone il tempo sarà parzialmente nuvoloso, la visibilità ottima e il vento di 12 nodi. Il bollettino nautico del Marrionio, tempo, vento da sud-est a forza 4 con locali rinforzi e parzialmente nuvoloso, visibilità buona, mare mosso, tendenza, vento da sud a forza 4, parzialmente nuvoloso. Bene per me è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.